Buongiorno a tutti, oggi lunedì primo maggio, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 13 versetti dal 54 al 58. In quel tempo Gesù venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi, non è costui il figlio del falegname e sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, le sue sorelle, non stanno tutte da noi, da dove gli vengono allora tutte queste cose ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua e lì a causa della loro incredulità non fece molti prodigi. Oggi il Vangelo fa riferimento alla festa di San Giuseppe, lavoratore, la liturgia ci propone questo testo del Vangelo secondo Matteo perché in esso Gesù è chiamato il figlio del carpentiere, viene quindi specificato il lavoro che svolge Giuseppe e che probabilmente ha svolto anche Gesù per tanti anni. Nel linguaggio comune diciamo che il lavoro nobilita l'uomo ed è così perché il lavoro è uno dei fattori che dona dignità alla persona umana concedendole di curare il creato e l'intera società, l'umanità. Il documento conciliare Gaudum et Spes al numero 34 afferma che il lavoro è una collaborazione dell'essere umano all'opera del creatore e anche un contributo al piano di salvezza che Dio desidera per il bene di tutta l'umanità. Il testo quindi del Vangelo ci presenta l'ambiente familiare di Gesù a Nazareth dove Gesù era ben conosciuto, del resto si coglie molto bene che gli abitanti di Nazareth conoscessero non solo la famiglia di Gesù ma anche la sua vita quotidiana, le abitudini che aveva. Non è escluso infatti che ai tempi di Gesù le persone che abitavano in uno stesso villaggio, i vicini di casa, fossero veramente di casa nel senso che passassero il tempo nelle case dell'uno dell'altro e perciò si conoscevano molto bene come fossero tutti una grande famiglia. Certamente questo stile di vita non riusciamo oggi neppure a concepirlo, siamo immersi in una società che ci richiede molto la presenza in altro più che nelle case ma è vero che dal testo emerge questo clima di familiarità tra gli abitanti dello stesso villaggio perché in riferimento a Gesù vengono poste cinque domande da i paesani di Gesù che rivelano, che manifestano la conoscenza che questa gente aveva delle abitudini quotidiane familiari comuni di questa famiglia perché non capiscono da dove viene la sapienza, i prodigi che si raccontano di Gesù. A dire che sicuramente la vita di Gesù di Nazareth non era quella di uno studioso o di qualcuno che passasse il tempo a discutere su delle questioni ma era una vita comune come quella di un carpentiere, di un lavoratore semplice come di altri abitanti del villaggio. Questi interrogativi posti dagli abitanti di Nazareth nei riguardi di Gesù per noi sono molto preziosi non solo perché ci danno modo di ricercare, studiare sugli origini familiari di Gesù, sulla vita del tempo, sugli usi e costumi di quella società ma perché ci danno anche un altro indizio che in quel giorno a Nazareth erano giunti lì nella sinagoga i conoscenti, i parenti, i familiari di Gesù non tanto per ascoltare delle sue parole ma per vedere quello che lui avrebbe fatto per loro. Quindi c'era un'attesa nei riguardi di Gesù per la sua fama. Non è negativo che ci si faccia delle domande, è negativo però il fatto che si pretenda di conoscere già le risposte e qui nel testo questi abitanti di Nazareth danno per scontato delle risposte che di fatto poi non corrispondono alla realtà. Quindi c'è questo da un lato questa forte conoscenza della realtà familiare di Gesù dall'altra invece questa parte meno umana, diciamo divina di Gesù che sfugge agli abitanti di Nazareth. Essi partono da una conoscenza limitata di Gesù perché considera solo la dimensione umana di Gesù ma oggi questa dimensione umana per noi significa molto in questa festa di San Giuseppe lavoratore. Allora Gesù non risponde, non agisce nello spirito, non compie i segni a Nazareth perché in questo tipo di conoscenza non c'è l'ascolto dello spirito, c'è semplicemente un chiudersi nell'umanità. L'incredulità che qui viene indicata è la mancanza di ascolto dello spirito, ecco perché Gesù non può manifestarsi come l'inviato di Dio, il Messia, il Signore. Però si manifesta come uomo, come colui che lavora, che condivide la situazione umana e che eredita il lavoro di Giuseppe. Chiediamo allora oggi che il Signore per intercessione di San Giuseppe ci apra all'ascolto dello spirito, ci guarisca dalle pretese che abbiamo sulle persone, ci liberi dal giudizio come appunto questi abitanti di Nazareth siamo sempre tentati di chiuderci nel giudizio o di avere pretese perché possiamo lavorare con serenità per il bene di tutti come ha fatto San Giuseppe per tutta la sua vita. Preghiamo San Giuseppe oggi per tante persone che hanno perso il lavoro, che non riescono più a trovarlo perché possano ritrovare la dignità, ritornare a vivere con dignità e nella pace. Buona giornata.